In uno scenario unico al mondo, un evento esclusivo e imperdibile, un dono dell'Azerbaijan all'Italia che apre gratuitamente le porte dell'Arena di Verona. In sinfonia con il futuro, un concerto d'arti tra musica e immagini, dalla scoperta delle melodie della tradizione azerbaijana alle indimenticabili colonne sonore italiane ed internazionali. Con l'Orchestra Italiana del Cinema, diretta dal maestro Jalsen Adigozalov. Arena di Verona, venerdì 12 settembre 2014, ore 21, unica data, ingresso gratuito. Assicurati i posti migliori e riserva la tua poltrona registrandoti su concertoarena.eventbrite.it. Infoline 051 69 39 166 da bacuaverona.eu